Rivolgo a tutti un presente invito a compiere ogni sforzo, perché i tavoli in cui si cerca il modo per risolvere l'unica complessa crisi socioambientale possano far udire la propria voce i più poveri tra i Paesi e tra gli esseri umani. E anche questo è un dovere di giustizia ambientale. L'appello forte di Papa Francesco arriva nel corso dell'udienza in Vaticano alla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile che ha promosso un incontro sul tema giustizia ambiente e cambiamenti climatici. Il Pontefice ricorda che il clima è un bene comune, che non si possono dimenticare le gravi implicazioni sociali derivanti dei cambiamenti climatici. La questione del clima, evidenzia, è una questione di giustizia, di solidarietà che dalla giustizia non va mai separata. È in gioco la dignità di ognuno. Francesco ricorda che non ci sono ricette, ma che ognuno può offrire il proprio contributo nel dibattito in corso in vista della riunione di Parigi a inizio dicembre. Necessario, suggerisce il Papa, procedere secondo un approccio partecipativo e globale, includendo tutte le parti in causa perché l'umanità sappia finalmente dare ascolto al grido della terra e dei più poveri che la abitano.